Dal Vangelo secondo Marco Sotto il sonno sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i panni dell'offerta, che non è decito mangiare se non i sacerdoti, e ne diede anche i suoi compagni. E diceva loro, il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Se l'ho dato Gesù Cristo, sempre se l'ho dato, eccoci giunti a martedì 19 gennaio 2021. Abbiamo appena letto il Vangelo di quest'oggi, trattato dal capitolo secondo, versetti 23-28 di San Marco. Quest'oggi cominciamo a trattare un tema molto importante, che è quello della direzione spirituale, che, come vi ho già detto, è ben diverso dall'accompagnamento spirituale, e vedremo perché nel dettaglio. E la direzione spirituale, perché di direzione noi abbiamo bisogno, e di padri noi abbiamo bisogno, e di essere figli abbiamo bisogno, perché se noi non sperimentiamo l'essere figlio, non potremo mai diventare fratelli, e non potremo mai diventare padri. Chi ha l'allergia, o meglio dire forse l'orticaria, per l'espressione direzione spirituale, è perché non ha una grande voglia di essere figlio, e di sicuro non sa essere fratello. Dà fastidio pensare che qualcuno mi debba dirigere, mi dà fastidio. Ricordate il peccato peggiore, gravissimo, che abbiamo visto in questi giorni nel libro L'inconscio spirituale, è quello dell'orgoglio. Io, pensate, una persona affermata, di 50 anni, o anche di più, o comunque insomma matura, no? Affermata con il suo lavoro, con il suo livello di potere, con la sua formazione intellettuale. Io, io devo essere diretto. Da chi? Chi è che mi può dirigere? Nessuno. Io dirigo me stesso. Nessuno è all'altezza di me. Nessuno può dirmi qualcosa che io già non sappia. E guardate che è molto diffuso questo modo di essere, di pensare, di vivere. Molto diffuso. Io mi arrangio per conto mio. Se noi pensiamo che Padre Pio ha avuto il Padre spirituale fino all'ultimo giorno della sua vita, dobbiamo chiederci qualcuno a cui sta sbagliando. Magari Padre Pio. Non so, può essere. Può essere che qualcuno abbia anche il coraggio di dire che era Padre Pio che sbagliava, che non capiva niente. Noi abbiamo bisogno del Padre spirituale, Padre spirituale e della direzione spirituale. Perché non è facile comprendere, ad esempio, il Vangelo di oggi? Cosa vuol dire questo sabato che è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato? Sapete, ci sono molti modi di intendere e di interpretare. E da come noi interpretiamo, ad esempio, questo versetto, poi di conseguenza viene fuori l'ipotesi, l'indicazione per una vita. Per questo che abbiamo bisogno di qualcuno. Chi ci dica? E allora, eccoci qui. Questo bellissimo libro, l'inconsuo spirituale, di Larche. scrive. Iniziamo questo nuovo capitolo, no? La manifestazione dei pensieri o le direzioni spirituali. Sapete, probabilmente è proprio perché la direzione spirituale, a differenza dell'accompagnamento, prevede la manifestazione dei pensieri. Questo può fare un po' di problema a qualcuno. L'accompagnatore mi sta a fianco. Colui che mi dirige mi sta davanti. Io accetto di stare dietro? Chi vuol venire dietro a me? Dice Gesù. Prende la sua coluce e mi segue. Chi vuol venire dietro a me? Perché non ha detto chi vuol venire a fianco di me? Facciamo l'accompagnamento spirituale. No, dietro di me. Perché io, Gesù, dirigo. Io e solo io do la direzione. Non tu e nessun altro. Scrive. In relazione con l'argomento di cui qui ci occupiamo, cioè la terapeutica delle malattie psichiche legate a malattie spirituali, la confessione presenta dunque molti vantaggi e li abbiamo visti nei giorni scorsi. Per un verso, essa permette con la soluzione dei peccati di curare in maniera radicale il senso di colpa, fondato oppure no che sia. E l'angoscia che ne deriva, senso di colpa e angoscia che sono legate anche a un certo numero di malattie psichiche. I peccati sono estinti e l'uomo ha la certezza del loro perdono da parte di Dio. Per altro verso, nella confessione l'uomo riceve, essendo a essere un sacramento, una grazia che l'aiuta a combattere contro il ritorno di quei medesimi peccati. quindi attraverso la soluzione, come abbiamo visto, il senso di colpa e l'angoscia che deriva dal senso di colpa legata al peccato, perché c'è un legame, capite? C'è un legame tra peccato e angoscia, peccato e senso di colpa, perché è di fatto fatto male. Oggi che si vuole abolire completamente il senso di colpa, guai avere il senso di colpa, non devi avere il senso di colpa, ma il senso di colpa ci fa bene. Certo, nelle dovute misure, ovviamente come tutte le cose, ma chi ha detto che il senso di colpa fa male? È una parte fondamentale, se io faccio il male, devo sentirmi in colpa e devo avere un senso di colpa. Non posso dire, ah sì che è bello, sì va bene, sì fa niente, sì non è un problema, come non è un problema? Certo che è un problema, tu hai rubato, devi sentirti in colpa, è giusto sentirsi in colpa. Certo, non devo cadere nella disperazione, ma devo sentirmi in colpa. Viene l'angoscia, certo che viene l'angoscia, andate a dirglielo a Davide, al re Davide, se non ha vissuto l'angoscia, andate a dirglielo a San Pietro se non ha vissuto l'angoscia, se non si è sentito in colpa, andate a chiederglielo a Giuda se non ha sentito la colpa. Certo, certo, è così, siamo strutturati così, il peccato produce questo senso di colpa e di angoscia, e mi dice, allora che cosa faccio? Ti vai a confessare, ma invece di rimuovere il senso di colpa, invece di rimuovere l'angoscia, che è da cui vengono fuori i disastri, invece di rimuovere queste naturali manifestazioni legate alla vera peccato, invece di rimuovere quelle, vai a rimuovere il peccato, perché noi vogliamo rimuovere il senso di colpa, vogliamo rimuovere l'angoscia, lasciando il peccato, e no, lasciando il peccato e banalizzandolo, non è corretto, lasciando il peccato, dicendo che non è peccato, ma se è peccato, è peccato, scusate, vuoi risolvere il senso di colpa, vuoi risolvere l'angoscia, vai alla radice, rimuovere il peccato con la confessione, e vedrai che il senso di colpa e l'angoscia spariranno, capite, questo è il processo giusto da fare, non l'altro, non dire che il peccato non esiste, che tanto Dio perdona tutto, che tanto Dio perdona tutti, che tanto Dio non guarda queste cose, che tanto Gesù ha già perdonato tutti morendo in croce, e allora che cosa ha inventato a fare il sacramento della confessione? Si è sbagliato, e anche Gesù, anche lui è un eccessivo, forse anche Gesù è un rigido, non lo so, perché l'ha inventato, perché l'ha dato? Rimuoviamo i peccati, con la confessione, e ve lo ripeto, e me lo ripeto, con la confessione frequente, con l'esame di coscienza quotidiano, e inoltre la confessione, come abbiamo visto, non solo rimuove la causa del senso di colpa e dell'angoscia, ma combatte anche, attraverso la grazia di Dio, il ritorno di quei peccati. Tuttavia, questa pratica della confessione, presenta sempre, soltanto dal punto di vista di cui ci occupiamo, cioè dal punto di vista terapeutico, sta dicendo, dei limiti. In primo luogo, perché essendo la confessione appunto un sacramento, non possiamo strumentalizzarla e servircene come fosse un semplice mezzo terapeutico, certo, la confessione è antiterapetica, la confessione abbiamo visto guarisce, certo, tutto verissimo, cioè, questo nessuno lo discute, ma lui dice, essendo un sacramento, io non lo posso strumentalizzare, a mio uso e consumo, per ragioni terapeutiche, che abbia una funzione terapeutica, va bene, ma non è che posso far diventare la confessione, allora, la, come dire, il luogo della mia, solamente il luogo della mia cura, perché non è giusto, cioè, non va strumentalizzata, e questo è un aiuto grande, perché ci fa capire che è sbagliato, quando noi abbiamo, quel modo di fare, per cui trasformiamo la confessione in una seduta psicanalitica, la confessione non è una seduta psicanalitica, la seduta psicanalitica è la seduta psicanalitica, la confessione è una confessione, punto, cioè, è così, quindi, io non devo andare in confessionale, col pensiero che, adesso mi vado un po' a sfogare, adesso vado un po' a parlare dei fatti miei, adesso vado un po' a, così, a dire, le cose che maggiormente ho in testa, quelle, no, no, io devo andare in confessionale, per chiedere perdona a Dio dei miei peccati, questa è la ragione per cui andiamo a confessarci, poi certo abbiamo visto che la confessione serve anche per togliere l'angoscia, per togliere il senso di colpa, per ridarci la pace, sì, sì, va bene, ma questo è successivo, non strumentalizziamo mai la confessione, in secondo luogo, prendendo la confessione un tempo relativamente breve, ed essendo le confessioni relativamente spaziate l'una dall'altra, nella generalità dei casi, non permettono di seguire in modo continuo la situazione e il divenire del malato, quindi la confessione non, cioè nella norma non è che mi vado a confessare e sto un'ora in confessionale, come potrebbe essere invece una seduta psicoanalitica o psicologica che sia, quindi il tempo è breve, non è pensabile che io stia tanto tempo, anche perché non serve, se devo dire i peccati non serve, se ho le idee chiare, se ho fatto bene la preparazione durante il tempo della settimana, se ogni giorno mi sono appuntato i miei peccati, li ho segnati, poi li ho riguardati, poi ho cercato i propositi per combatterli, per guarire, quindi mi sono messo giù bene i miei propositi, da presentare in confessionale, ho visto, mi sono segnato, perché è importante segnare, sì i peccati, ma per il nostro interesse, per la nostra riflessione, è importante segnare anche, magari tra parentesi, le circostanze, che servono soprattutto a noi, cioè quel peccato, quando l'ho fatto, come l'ho fatto e con chi l'ho fatto, mi serve perché? Perché magari tra un mese, quando vado a rivedere le mie confessioni, vedo che quel peccato lì si ripresenta ad esempio in tre circostanze precise, non in tutte, non sempre, ma quando io mi espongo, quando io vado a finire dentro tre circostanze precise, e allora imparo che devo proprio sistemare quelle circostanze, oppure vedo che continuo a stare male da un certo periodo a questa parte, non riesco a capire perché, vado a rivedermi le ultime confessioni nell'ultimo mese, e vedo che effettivamente è cambiato qualcosa nella mia vita spirituale, magari ho tolto qualcosa, ho messo qualcosa dentro di nuovo, che ha scombinato quell'equilibrio che probabilmente io devo togliere, o devo mettere, per riportare la mia anima al giusto posto. Poi, in terzo luogo, non tutte le turbe psichiche sono peccati, o manifestazioni di peccati personali, e quindi non diventano necessariamente oggetto di confessione, cioè una malattia psichica non è, sempre per forza, frutto del peccato o peccati. La manifestazione dei pensieri o direzione spirituale, non dimentichiamoci mai, è questa, questo, la manifestazione dei pensieri o direzione spirituale. è dunque chiamata a svolgere accanto alla confessione un ruolo complementare, capite? Sono due realtà diverse che però devono stare insieme, abbiamo bisogno di tutti e due, perché nella loro specificità e diversità sono fondamentali. Questa pratica della direzione spirituale risale ai primi secoli del cristianesimo. Pensate, siamo ai primi secoli del cristianesimo. Molto bello. Nella chiesa ortodossa è tuttora in vigore, benché spesso limitata agli ambienti monastici e ai laici l'intensa vita spirituale, a direzione spirituale. Beh, qua diciamocelo in ambito cattolico. Sì, non è che sia molto diffusa. C'è, sicuramente la vive chi anche da noi vuole avere un'intensa vita spirituale, ma non è proprio così diffusa, diffusa. Anche perché non la sappiamo fare. Anche perché da una parte non è facile trovare il padre spirituale è più facile trovare un confessore. Ma trovare qualcuno che voglia fare il padre spirituale e magari si sente in grado di farlo, eh, questo non è così semplice. Perché come vedremo fare il padre spirituale svolgere questo ruolo così importante e delicato è tutt'altro che una passeggiata. e comporta una responsabilità grave, grave sotto tutti i punti di vista per i sacerdoti e anche per il fedele perché inizia un cammino molto preciso che, ripeto, non è l'accompagnamento spirituale. È certamente sintomo di un cammino di un cammino impegnato, di una volontà bella di seguire il Signore la direzione spirituale. Però deve essere costante. Nel senso che costante dovrà essere la manifestazione dei pensieri che vanno insieme che però ancora non la facciamo mai. Raramente. Cioè noi andiamo dal padre spirituale quando ci andiamo per chiederti devo fare questo, devo fare quello, devo fare quella. Posso andare di qui secondo lei, posso fare di qua, è meglio leggere questo libro che quell'altro. Sì, sì, va bene. Ma la direzione spirituale non è esattamente come dire la cabina della regia. È innanzitutto il fatto che tu decidi di aprire il tuo cuore, di manifestare i tuoi pensieri, di confidarli, di donarli a qualcuno e poi da questo qualcuno ricevere quelle indicazioni necessarie per. La manifestazione dei pensieri, scrive, si può accostare alla confessione e tuttavia se ne distingue ampiamente. In primo luogo perché? Mentre la confessione è un sacramento, la direzione spirituale o manifestazione dei pensieri non lo è. Questa è la prima differenza sostanziale. La confessione è un sacramento. La direzione spirituale non è un sacramento. Non è dunque assolutamente necessario che venga riservato a un sacerdote ma piuttosto a un padre spirituale che può sì anche essere un sacerdote ma pure un semplice monaco autorizzato questa funzione per le sue qualifiche spirituali. così funziona la chiesa ortodossa e se spesso è alla stessa persona padre spirituale e sacerdote che si manifestano i propri pensieri e si fa la confessione a volte è a due diverse persone che si ricorre per due funzioni ben distinte tra loro. ecco quindi pensate stavo leggendo mi era sfuggita prima questa nota veramente molto bella in Grecia la funzione di confessore è riservata dal vescovo solamente a taluni sacerdoti che chiesa ortodossa stiamo pensando parlando che allora vengono chiamati pneumaticoi pneumaticoi pensate un po' pneumaticoi cioè questi quasi è brutta come traduzione perché a noi a noi suona malissimo no? si potrebbe quasi tradurre con spiritualoidi ma è orrenda è una traduzione bruttissima che non va bene perché spiritualoide per noi è una roba bruttissima però non mi viene adesso in mente un termine che riassume in una parola sola perché lui traduce con padre spirituale però pneumaticoi non è proprio padre spirituale è proprio tutto spirituale ecco perché mi è venuto questo termine spiritualoide questi sacerdoti sono 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 pieni di spirito sono appunto sono si padre spirituale ci mettiamo già dentro qualcosa di di altro sono proprio spirito e quindi capite è una funzione la funzione del confessore è veramente per loro una funzione particolarissima perché lui dice poco dopo che di fatto il fedele all'infuori del confessore non è che altri e quindi è lì che vengono anche i consigli però capite è una cosa è una realtà che richiede veramente delle qualifiche spirituali cioè dirigere essere padre spirituale di qualcuno richiede veramente delle competenze delle competenze innanzitutto spirituali e psicologiche quindi può essere la stessa persona può essere le due persone diverse in secondo luogo mentre la confessione è ammettere i propri peccati davanti a Dio la presenza dei sacerdote per ricevere l'astruzione la manifestazione dei pensieri consiste invece nel far parte del padre spirituale stesso di pensieri che non necessariamente sono peccati capite cioè mentre io devo al confessionale al confessore dire i miei peccati per avere la soluzione la manifestazione dei pensieri consiste invece nel far parte del padre spirituale di pensieri che non sono per forza peccati in maniera da fargli conoscere il proprio stato interiore capite c'è manifesto in tutti i miei pensieri quantomeno più importanti non in funzione della soluzione ma in funzione del fatto che lui possa conoscere il mio stato interiore quindi più manifesto più mi conosce più narro più racconto più mi conosce e così ricevere dei consigli spirituali appropriati per avanzare nella via della guarigione spirituale e della salvezza i pensieri da manifestare uno dice ma quali sono questi pensieri da manifestare i pensieri da manifestare al padre spirituale sono dei pensieri attuali non importa quali siano che si ripetono o hanno una certa consistenza nell'anima in verità sono questi pensieri che potranno dare al padre spirituale indicazioni significative sulla situazione sulle tensioni sugli impulsi sulle disposizioni tendenze interiori del suo figlio spirituale sulle tentazioni che lo assidono provengano a essere dalla propria cupidigio della diretta attività dei demoni capite quei pensieri che si ripetono uno dice ma ti vuoi raccontare tutti i pensieri che ho evidentemente no non posso dire tutte le cose che mi girano per la testa non ha senso ma sono chiamato a manifestare quei pensieri che si ripetono quei pensieri che attualmente sono molto insistenti o che hanno una certa consistenza che ha una certa densità i pensieri di tal natura perché così lui potrà meglio capire le tentazioni le attività dei demoni i pensieri di tal natura sono pure liberatori dei punti deboli dell'anima delle sue zone di fragilità cui più volentieri i demoni si attaccano delle sue zone in convalescenza e quindi più facilmente a rischio di ricaduta o più comunemente delle sue parti ancora malate ecco credo che leggiamo ancora un pezzettino la manifestazione dei pensieri consiste nel far parte del padre spirituale di ogni pensiero che turbi di ogni stato insolito di ogni dubbio di tutto ciò che può inquietare o dare ansia mamma guardate sapeste quanto è importante tutto questo se non lo dico il padre spirituale a chi è che lo vado a dire la mia amica del cotton club a chi è che le vado a dire queste cose se non le dico a nessuno ci muoio dentro qui è se non le dico a nessuno veramente come dicevamo spacco i matrimoni distruggo le amicizie e perdo la testa perché queste cose qua corrompono corrodono quindi questi pensieri che sono ricorrenti questi pensieri che hanno una densità questi pensieri che turbano questi pensieri che sono strani diversi questi dubbi vanno detti dubbi perché capite il dubbio se non viene risolto scava 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 arriva la carne tutto ciò che mi inquieta tutto ciò che mi crea ansia vanno manifestate queste cose senza paura e dopo cosa penserà e dopo cosa succederà e dopo mi sgriderà e dopo si arrabbierà e dopo se lo deluderò e dopo questi pensieri vengono dal diavolo noi dobbiamo dirli succeda quel che succeda vanno detti perché solo così noi ci ci curiamo veniamo curati si può anche tutti insieme fargli conoscere certi particolari del proprio modo di vita così da essere sicuri della loro validità tenuto conto della loro incidenza sulla vita spirituale certi particolari del nostro modo di vivere no sa padre io sono abituato quattro volte alla settimana a bermi due litri di vodka eh magari diciamocelo può essere interessante questo dettaglio perché sai nella valutazione del tuo cammino spirituale può darsi che magari due litri di vodka tre volte alla settimana magari non sono proprio il meglio a parte che nel giro di tre mesi probabilmente tu sei già la presenza di Dio perché tenuto la cirrhose epatica ma al di là di questo oltre a salvare il tuo fegato magari potremmo anche pensare che questa cosa non sta proprio tanto con l'ascesi spirituale no per esempio quindi vanno detti capite queste cose vanno dette io penso che quanto abbiamo ascoltato ci aiuti a capire bene cosa dire e il perché dirlo perché è importante un dicevo da fare la direzione spirituale ma cosa vuol dire avere un direttore spirituale ma cosa vuol dire fare la direzione spirituale ma cosa si fa durante la direzione spirituale questo si fa si fa questo questa cosa qui capite che non può essere fatta per email adesso lo capite bene no capite che non può essere fatta su whatsapp non può essere fatta attraverso messenger di facebook non può non si può non si può capite quanto è necessario una un incontro di presenza una frequentazione di presenza per queste ragioni che vi ho appena detto ecco allora chiediamo questo oggi al signore la grazia di donarci un bravo padre spirituale e una volta che lo abbiamo ricevuto facciamo di tutto per non perderlo vi auguro una santa giornata vi auguro di diventare santi e la benedizione di dio di potente padre e figlio e spirito santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre amen sia lo dato Gesù Cristo sempre sia lo dato